Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Mi raccomando ragazzi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Dall'ultimo video c'è stata una live di mezzo come sempre quella del sabato e ho fatto tantissime emissioni ragazzi veramente veramente tantissime Devo dire una cosa sono state moltissime marginali proprio tipo hey craft a 16 scale andiamo subito a riscattarlo E altri addirittura come questa qui della waystone ho semplicemente dovuto rompere una cosa che già avevo come questa pietra qui Metterla nell'inventario e poi semplicemente ripiazzarla per terra e niente la mission è fatta Ho fatto anche complicatissime emissioni in cui ho addirittura dovuto craftare degli oggetti eh non ci scordiamo queste cose Invece altre cose come ad esempio il boomerang l'ho sbloccato perché già lo avevo Quindi niente ora ho riscatto tutte quante le missioni vediamo cosa abbiamo ottenuto E poi passeremo a realmente lo scopo del video di oggi Tra l'altro questa qui era una cosa molto costosa non so cosa sia dice Bennett teleporter si faceva con stone cobblestone and another star Crafting abbastanza costoso per another star ma sinceramente non so cosa sia non ne ho la minima idea Oh un cooler questo penso sia buono e siccome non ho più spazio comincio a posare le cose Questa è un'arma? Sì non è nemmeno male il cibo da mangiare come sempre lo metto nel saccottino Allora intanto vediamo cosa ho qua ho un coso che lancia a ragnatele le maracas Una penso sia una granata questa a dire il vero Ah ma il cooler non è contro i mob Ghiaccia praticamente l'acqua intorno e fa sponare della neve Potrebbe essere carina come cosa Lo chance cube per il momento non ci interessa Altre robe abbastanza inutili Doggy charm potrebbe essere buono ma non so cosa serva E tra l'altro ho notato che c'è una cosa un po' particolare Ovvero questa coda qua Come vedete sì ok che è della botania non so cosa serva Ma sotto c'è quella parolina arancione ragazzi Quelle robettine lì sono quelle che appunto vanno qua Ho fatto un ok Ma non so cosa può servire cioè mi si vede addo non mi si vede In genere le cose che vanno lì sono cose che hanno degli effetti Però io non so minimamente a cosa può servire ragazzi Se lo sapete ditemelo Ah no ok ci premo shift e ci cosmetica Quindi effettivamente non è nulla cioè non è che ha un reale senso Possiamo anche metterlo via Riguardo all'anellino che in molti mi dicono Tano l'anellino Tano fai l'anello del volo Fai l'anello del volo di qui e di là Ragazzi io lo farei anche ma è abbastanza difficile da craftare Serve tempo e prima devo andare in altri posti Quindi è una cosa che devo fare con calma E se dovessi farlo ora non farei veramente nulla Non ci guadagnerei niente Quindi devo per forza prima fare altre cose ragazzi Tranquilli Allora ho rischiato tutte le missioni tranne questa Dei druidi Missioni dei druidi che sostanzialmente Andremo a rifare mille volte Non perché la missione sia ripetibile ma perché dobbiamo andare a killare tantissimi druidi Infatti una cosa molto molto importante Per appunto fare l'anello E andare nella terra di mezzo Non è che sia difficilissima come cosa Anzi sostanzialmente è abbastanza facile Il piccolo problema è che ci mancano degli oggetti Che effettivamente posso trovare soltanto laggiù La tappe grade non ci interessa E advanced drill potrebbe essere carino Ma no grazie Ho anche fatto la saccottina di minerali Semplicemente quando vado in caverna le robe le butto qua dentro Ho già un pezzo dell'amuleto E dovrebbe essere qua da qualche parte Potrei anche averlo posato Non lo metto in dubbio Potrei anche averlo perso Potrebbe essere finito ovunque Ma in teoria dovrei averlo Eccolo qua Non mi sembra di averne altri Quindi direi di fermarci qua Come vedete Combinato ad altri tre pezzi Facciamo questo talismano Che ci permetterà di andare nella terra di mezzo E possibilmente se va bene Trovare una cosettina molto interessante Poi comunque è una dimensione da esplorare Va fatto Questi pezzettini qua si ottengono semplicemente Andando a killare i druidi Che sono i tipi che esponano intorno agli altari Quindi ragazzotti Il portale è aperto Possiamo andare Ah si vedete questo piccone ragazzi Mi sono fatto il piccone In su premium Fa abbastanza schifo Cioè pensavo fosse molto molto buono Perché ho detto Cavolo è in su premium Ragazzi E' terribile Terribile E' lento proprio E' lentissimo Comunque siamo qua Dobbiamo trovare assolutamente Una palude E ovviamente La palude Non c'è Ah beh ok Si si C'è da questa parte Dai Stiamo attenti a questo posto Che l'ultima volta non c'è andata benissimo Ok Eccoci qua Non ci rimane che trovare La struttura E' no Invece l'abbiamo subito trovata Allora Questo qui ragazzi E' l'altare di cui parlavo E' Molti mi hanno detto Tanno prendilo Portalo via Ragazzi Se questo coso qui Lo prendo Cioè provo a prenderlo Si spacca Ora No 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 Questi fanno male Mi sono subito oscurato ragazzi Perché conviene Oh ho fatto ancora una missione Perfetto E' Comunque no Ci ho provato Io non dico che in tutte le versioni sia così Magari colpa del piccone Potrebbe essere colpa di qualsiasi cosa Sa di fatto E si rompe Intanto io un druido L'avevo visto Però ho detto Dai lo killo tra tre secondi Che fine ha fatto E questo cos'è Copper e bronzo Ah ok Vabbè nel dubbio comunque ho fatto la missione Riscattiamo le cose Oh eccolo qui Ah bello ma dove eri finito E' il pezzo che ci serve Si ragazzi Aio 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 Eccolo qui killato Ragazzi siamo già a due pezzi Cioè ok Era ovvio che l'avrei trovati eh Però non pensavo così in fretta Almeno uno Beh non devo cantare vittoria Perché ragazzi Siamo all'inizio E gli altri potrebbero metterci ore a trovarli E invece no raga Ce ne manca solo uno seriamente Benissimo Benissimo proprio Oh no ragazzi Mi stanno attaccando la colonia Io non ci credo Non ci credo Prendo pezzi a caso Magari anche quello che ci serviva C'è un'urgenza gravissima qua Dove dove Ok A sud Da questa parte qui Eh la classica nave che spuono ogni volta No Non è la nave Ma ho letto male Si dice della nave Raga ma qua non c'è nessuna nave Che sta attaccando E beh ci sono i pezzi qui però di nave Cioè mi ha trollato Oh cavolo Vabbè è vero in effetti Perché combattere così Se non mi ricordo male Queste cose qui sono anche ultra pericolosi Cerco di starci un attimo distante se posso no Madonna raga ma non gli faccio nulla Beh oddio Nulla 700 a colpo gli faccio Non vorrei dire ma È questo coso qui che ha un po' troppa vita a occhio Raga ma quanto cavolo resiste oh Guardate gli sto levando 800 Ma quanto ha 10.000 di vita Raga ho paura a questo coso qui se mi colpisce Secondo me no dai secondo me mi shotta per forza È troppo potente per non shottarmi Oh cavolo Io veramente mi vorrei avvicinare Per vedere quanta vita ragazzi ma Madonna Oh questa è completata Che questo ho fatto Armi leggendari No Non ci credo Seriamente ho fatto questa missione qui Raga allora era la prima Oh ma sto morendo Sto morendo ragazzi Sto morendo Cavolo Stiamo un attimo Stiamo un attimo attenti eh Allora prima cosa Vado a dormire Poi i libri li posiamo qua dentro Tra l'altro non ci interessano per ora L'oro qua sopra Altri materiali qua sotto Bottarella di rigenerazione Diamo prima di tutto un'occhiata ai pezzi che abbiamo trovato Ok ragazzi confermo che li abbiamo tutti Questo addirittura lo posso buttare Quindi possiamo subito andare a craftare l'aggeggio Questo robo qua Cavolo Tanta tanta roba Non so cosa faccio di preciso Ah Clicca destro e posso spawnare un mob Raga a me dispiace sprecarlo Però vabbè Eventualmente gli possiamo mettere mending E si risolve Vediamo come funziona Oh Altro che un mob E questo tempo di ricarica qui Sono per farne spawnare altri Immagino No raga mi si sta consumando o sbaglio? Più del solito Cioè mi ha consumato Cento utilizzi E poi comunque Loro sono a tempo Va bene Con un buon mending Potrebbe essere molto interessante Come cosa Arma Veramente top Ovviamente Leggendaria Dovremmo metterla nel museo Che non ho più portato avanti Giuro Prima o poi lo farò Già che siamo qui Apriamo anche questa chest Mending moss Oddio raga Mi sembra che questa roba qui sia per craftare una roba interessante E invece sto mentendo No è Ah è della tinker È della tinker Per mettere mending Negli oggetti della tinker Ok scherzavo allora Beh però non è male comunque La metto qua dentro Ma a questo punto Torniamo nel portale E craftiamo l'oggetto Sono spawnati anche i tipi Aio Fermatevi Ah è morto da solo E mi ha derpato la roba Ma non mi serve realmente Ragazzi Penso che si stia componendo Guardate che figata Cioè Questa crafting è bellissima Sta alzando i pezzi Ed è mio Lo posso prendere? Lo prendo da qua? Beh ok Scusatemi Pensavo di doverlo prendere da sopra Forse sto chiedendo troppo da Minecraft Altra missione comunque fatta Perché ovviamente Era una missione anche questa E ripeto Sono dell'introduzione Quindi vanno fatte tutte quante 75 di soldi Veramente poco Però altra cassa nera In cui possiamo trovare Un oggetto Vuoto? Era vuoto? Cioè però Mi è venuta scritta Di lato che ho sbloccato Qualcosa nel market Mi dice Mi dice che ho sbloccato questo Perché prima non era comprabile Ragazzi Mi confermate Che ho sbloccato questo qui Cioè Ditemelo nei commenti Perché Mi sembrava ci fosse scritto quello Però ovviamente È passato Io non posso tornare indietro Voi suppongoli Sì Però Mi sembra di aver sbloccato questo Ma non ne sono totalmente sicuro Anche perché era vuoto Sembra un po' strano Cioè non dovrebbe esserlo Vabbè Non importa Per finire in bellezza ragazzotti Oggi vorrei fare Altri oggettini a craftare Giusto per finire Questo reparto qui Delle missioni Quindi devo craftare Uno scudo In diamante Cominciamo subito da questo Prima con la normale E poi in diamante Seconda missione Scarpettine slime Che se non sbaglio Avevamo anche da qualche parte E invece no Però con le nostre 58 slime Possiamo farlo Più che volentieri Quindi facciamo tre blocchi di slime Questi così E questo sopra Scarpette fatte Prendiamo anche due string E andiamo a fare anche la fionda Beh ragazzi Era giusto per fare qualche missioncina in più Secondo me ci sta sempre Se ogni episodio ci mettiamo a fare Almeno due o tre missioni Comunque riusciamo a fare grandi cose Poi ovvio dico un minimo Perché in un episodio Come avete visto oggi Emmo fatte veramente tantissime Poi se riusciamo anche a utilizzare Questi oggetti Tanto meglio Perché secondo me Alcuni sono veramente Veramente buoni Ma qualcuno vorrebbe dire Bel tanino Sì ok Però tu hai fatto Questo oggetto qui Che è fighissimo Che tra l'altro ricorda Il talismano super potente Che hai fatto Che spacca tutto E fa 3 miliardi di danno Ma non l'hai ancora utilizzato Beh ragazzi Questa qui è una chiave Più che un talismano Che ci permette di andare Nella terra di mezzo Terra di mezzo Che visiteremo La prossima volta Ovvero Nell'episodio di sabato Quindi mi raccomando Non mancate Oggi ci siamo limitati a craftarlo E a fare un bel po' di missioni Ragazzi Io spero che questo video Lezzissimo vi sia piaciuto Poco a poco Stiamo andando avanti Ma la nostra fame Di sapere E di potenza Non ci farà mai fermare Detto questo Non perdetevi il video di sabato Ed è Ciao a tutti